Partiamo dalle cose importanti. Il mio monologo, l'universo in un bicchiere, raggiunge Perugia. Il 3 aprile alle 21 sarò infatti all'auditorium San Francesco per raccontarvi la più grande idea nella storia della scienza. Per di più, l'ingresso sarà libero. Prima di passare al contenuto di questo video, permettetemi quindi di lasciarvi con una domanda. Com'è possibile che un panino con le zucchine e un fazzoletto, un gorilla e una stella siano fatti della stessa manciata di particelle elementari? Per scoprirlo ci vediamo a Perugia. Veniamo al dunque. Un team di ricercatori e ricercatrici un po' sparpagliato per il mondo ha collegato dei neuroni umani coltivati in vitro a dei circuiti elettrici, permettendo i due di comunicare con appunto segnali e elettricità. Questo con l'obiettivo di sviluppare un nuovo paradigma per la computazione, un tipo di computer alternativo a quelli che usiamo nella vita di tutti i giorni, basati sull'architettura di von Neumann e fatti di silicio, transistor e codici binari, insomma sapete di cosa stiamo parlando. L'idea è molto semplice. Il nostro cervello è un oggetto super efficiente da un punto di vista energetico, molto adattivo, capace di modificarsi in base alla situazione e l'ambiente in cui si trova ed estremamente flessibile e robusto in un certo senso. Può danneggiarsi e continuare a funzionare e quindi si sono detti, basta, cervello s'evolve da milioni di anni, sfruttiamo tutto questo processo di ingegnerizzazione se vogliamo e proviamo a costruire dei nuovi computer per poi addestrarli a fare quello che vogliamo. Ed è qui che viene fuori la cosa interessante, perché mentre un computer si può programmare da zero, i neuroni sono già lì e reagiscono agli stimoli esterni come reagiscono. Non è che tu puoi prendere un neurone e programmarlo, e quindi la domanda è ma come fanno sti ricercatori o come hanno fatto sti ricercatori ad addestrare un sistema fatto di neuroni e circuiti, cresciuti tutto sommato un po' a caso, a fare esattamente quello che volevano o vogliono rispettivamente, perché insomma questo progetto poi è andato avanti e si è sviluppato. Non vi faccio spoiler, perché è appena uscito un piccolo documentario su Dishbrain, questo è il nome del progetto, sul mio canale portfolio in inglese, actually. Trovate il link in descrizione, nel primo commento e qui da qualche parte, perché non so bene dove salterà fuori la preview del video, non sono ancora capace di utilizzare YouTube a pieno dopo tutti questi anni, ma mi perdonerete. Quindi, ancora una volta, niente spoiler, ci vediamo a Perugia e andate a vedere il video su Dishbrain, perché voglio davvero sapere cosa ne pensate.